La situazione di emergenza nelle carceri non tende a placarsi. L'ultimo episodio di violenza si è verificato il giorno di Natale. Un detenuto di nazionalità italiana nel pomeriggio del 24 dicembre e la mattina del 25 ha aggredito il personale di polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Caltanissetta. Il caso, verificatosi nel carcere Malaspina del capoluogo Nisseno, è stato denunciato dal sindacato nazionale autonomo Polizia Penitenziaria. Il detenuto si sarebbe scagliato contro il personale per futili motivi, colpendo un agente con un pugno al volto e procurandogli delle lesioni, tanto che il poliziotto ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. Il fatto sarebbe scaturito dal tentativo che il detenuto stava compiendo di far passare dei generi alimentari dalla stanza di alcuni detenuti a un'altra. Il richiamo alle regole da parte degli agenti ha scatenato la reazione violenta dell'uomo. L'ispettore ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici, riportando una frattura ritenuta guaribile in 30 giorni.